ciao a tutti ragazzi bentornati su nerdattitude oggi come promesso vi porto le letture manga che ho fatto a maggio 2020 e anche nel periodo della quarantena quindi vi faccio una sorta di recap di tutto quello che ho letto e delle serie che sto portando avanti così potete avere insomma un'idea di quello che sto leggendo e mi raccomando se non siete iscritti al canale iscrivetevi seguitemi alla pagina instagram nerdattitude e se non avete visto il video precedente appunto delle letture dei fumetti ve lo lascio nelle schede magari andate a vederlo la prima serie di cui vado a parlare oggi è in ero opera composta in cinque volumi edita da planet manga al prezzo di 4 ore 50 vi mostro solo i numeri 1 diciamo delle serie questo è uno shonen mi è mi è piaciuto non è insomma un'opera eccelsa però comunque un'opera che diciamo che se la cava e parla di due ci sono i nostri due protagonisti che si trovano nel bel mezzo di una devastazione cosa che era successa anche dieci anni prima però questa volta i due si trasformano e diventano diciamo nemici quindi il protagonista che è segretamente innamorato della ragazza della sua compagna di scuola farà di tutto insomma per per salvarla da questo destino e quindi insomma noi vedremo le vicende dei vari ember insomma è un'opera che diciamo mi è mi è piaciuta e la consiglio se volete insomma una rettura fresca di sono cinque volumi quindi un'opera relativamente breve ma comunque a mio avviso interessante passiamo poi a un'opera molto più conosciuta che è erased che ho finalmente recuperato l'avevo acquistata all'uscita ma non avevo mai avuto il tempo di leggerla finalmente sono riuscito a concluderla sono nove volumi al prezzo di 5 ore e 90 per star comics questa insomma veramente mi è piaciuto tanto parla del nostro protagonista che è satoru che è un ragazzo che ha un potere particolare cioè quello di riavvolgere il tempo di tornare indietro nel tempo e accadranno degli avvenimenti per il quale lui dovrà tornare quando era bambino per salvare una sua compagna di scuola che ha avuto un incidente diciamo così e cercare il filo conduttore che lega gli avvenimenti del presente e quelli del passato cioè sparizioni rapimenti eccetera eccetera è un'opera che per me è promossa assolutamente mi è piaciuta tanto appunto anche questa qui va via velocemente perché sono solamente 8 barra 9 volumi molto molto consigliata quindi sicuramente è una delle letture più belle che ho fatto insomma durante durante questo periodo passiamo poi ad un'altra opera molto conosciuta che è soil anche questa è un'opera strana completa in 11 volumi mi ha ricordato un po' twin peaks diciamo la verità è un'opera particolare non la consiglierei a tutti infatti ho sentito di molte persone che non a cui non è piaciuta l'hanno trovato un po troppo confusionaria concordo con loro perché comunque non è semplice seguire il filo degli eventi si parlerà di una famiglia che improvvisamente da un momento all'altro scompare dentro la propria abitazione e non si hanno tracce però da lì comincerà non è un thriller un poliziesco che dovrà scoprire come è sparita questa famiglia ma si dipanerà la storia in mostri in presenze strane a me devo dire la verità è piaciuta però appunto la consiglierei solo a quelle persone a cui piacciono questo tipo di questo tipo di opere questo tipo di storie cioè molto molto particolari appunto come dicevo prima un po la twin peaks però per me è comunque promossa poi un'altra storia questa volta probabilmente la migliore che ho letto durante questo periodo è pluto di naoki urasawa è la prima opera che leggo del maestro urasawa ho anche monster sto aspettando per leggerlo però questo è stato il capolavoro la lettura più bella che ho fatto insieme ad un'altra che poi ne poi vedremo è stata la lettura più bella che ho fatto durante questo periodo sono otto volumi sono un po di difficile reperibilità però comunque diciamo che li stanno ristampando quindi comunque dovrebbe dovrebbe essere disponibile dovrebbero essere disponibili a breve i nuovi volumi che sono esauriti è la storia di astro boy diciamo rivisitata anche se non ha un ruolo ha un ruolo da protagonista però il protagonista di questa vicenda è gesic cioè un poliziotto dell'interpol che è un robot il mondo si è si divide robot e umani e ci cominciano ad esserci delle uccisioni dei robot più forti più importanti della della terra e questo robot il nostro protagonista che si dovrà indagare appunto sul sull'autore sugli autori di questa spari di queste sparizioni però è un veramente avvincente veramente bellissimo una storia profonda di con risvolti anche molto molto attuali di integrazione di diciamo di di razzismo anche volendo quindi l'ho trovata molto attuale e assolutamente assolutamente consigliata devo leggere ancora monster che ho che ho acquistato quindi mi aspetto che anche lì saremo su dei livelli elevatissimi perché comunque urasawa è un mangaka eccezionale quindi questa è stata la lettura la mia lettura preferita di questo di questo periodo è veramente se riuscite a trovarla ad un prezzo diciamo abbastanza abbastanza congruo oppure anche se dovete aspettare le ristampe assolutamente ne vale la pena quindi vi consiglio di recuperarla vivamente un'altra lettura che ho iniziato è l'attacco dei giganti che non non mi convinceva all'inizio quindi avevo deciso di non recuperarlo poi ho trovato un'offerta ho cominciato ad informarmi un po di più anche sulla storia ho visto che si evolveva in un fanta politico abbastanza 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 bello e quindi ho deciso di recuperarla vi faccio vedere la discovery edition ma lì forse si vede che ho tutta la serie comprese anche le variant 11 e 21 quella di marco checchetto che è bellissima a mio avviso ho letto fino al numero 8 mi sta piacendo trovo come molti ovviamente i disegni un po confusionari un po buttati lì so che andranno col passare del tempo andranno migliorando però la storia mi sta piacendo è molto avvincente e voglio arrivare a capire i vari misteri che ci sono non faccio spoiler però comunque mi sta appunto mi sta prendendo ho curiosità di andare a vedere dove dove vogliono andare a parare quindi sono arrivato appunto al numero 8 mi sta piacendo la continuerò avanti la porterò avanti anche perché appunto sta per concludersi quindi sono molto curioso di leggere il seguito poi un'altra storia anche questa ai livelli di pluto molto molto bella veramente una delle letture migliori è my sonic oku 10 volumi in questa perfect edition per star comics è una storia che mi è piaciuta tantissimo mi piacciono gli slice of life mi è piaciuto tantissimo quello che la rumiko takashi ha inserito in questa storia perché è una storia molto empatica nel senso che noi possiamo ritrovarci tranquillamente nei sentimenti dei protagonisti abbiamo appunto qui godai che è il protagonista del nostro manga e kyoko che è la amministratrice la nuova amministratrice della pensione ikoko appunto dove godai e agli altri protagonisti del manga vivono e vedremo le più disparate situazioni quindi viveremo le cene viveremo gli innamoramenti viveremo i problemi dei nostri protagonisti la vita quotidiana insomma vivremo con loro dentro la pensione con loro e troveremo appunto le più disparate situazioni ma è un manga in cui tutti noi possiamo ritrovare qualcosa che abbiamo vissuto nella vita e appunto anche i primi i primi amori i primi innamoramenti certo è un si parla di un giappone molto giappone degli anni 80 quindi comunque alcune vicende a noi potrebbero sembrare un po un po estreme un po strane però comunque è una lettura consigliatissima assolutamente mi è piaciuto tanto l'unico difetto che ci ho trovato è siccome sono dieci volumi ma ne erano mi pare 27 nell'edizione originale alcune volte è un si dilunga un po troppo su alcune situazioni che secondo me potevano essere evitate io adesso non so la serialità in quegli anni come come fosse se magari è stato allungato o meno però alcune cose l'ho trovato un po troppo il brodo un po troppo allungato anche se comunque è un'opera ripeto eccezionale che tutti devono leggere veramente questa insieme a Pluto è stata la lettura migliore a dire la verità ce ne sarebbe anche un'altra che vi sento subito dopo ma sono state le letture migliori di questo periodo appunto la lettura che vado a presentarvi un'altra lettura eccezionale è Gogo Monster di Taiyo Matsumoto di cui avevo letto Sanni che mi era piaciuto tantissimo e questa opera si conferma agli stessi livelli di Sanni parliamo sempre di problematiche di bambini dell'infanzia ma trattate appunto con una delicatezza con un con un tatto con con una dolcezza eccezionale è un'opera veramente che ti entra nel cuore ti fa amare i protagonisti ti fa appunto cercare di capire di avvicinarti a quello che pensano perché comunque sono tutti protagonisti abbastanza problematici e quindi ti fa provare empatia per loro io ripeto consiglio assolutamente la lettura sia di Sanni che sono sei volumi per j-pop e sia di Gogo Monster che comunque è un bel mattone diciamo però scorre via abbastanza velocemente ma è un'opera assolutamente consigliata io l'ho recuperata grazie a Kirio 1984 perché non sapevo neanche che fosse uscita però ripeto quando l'ho letta sono rimasto assolutamente folgorato vorrei magari approfondire un po' di più in una recensione parlando proprio di di Matsumoto quindi non solo di questa opera ma parlare di Gogo Monster, di Sanni, magari di Tekken King Crit quindi vediamo se riesco a trovare il tempo di fare diciamo non dico una monografia ma comunque un diciamo la storia di questo mangaka perché comunque merita merita molto le sue operazioni eccezionali consigliatissimo il prezzo è anche abbastanza basso perché sono 15 euro per questo volume che è appunto molto molto grande come vi ho fatto vedere però sono assolutamente soldi ben spesi passiamo poi a un recupero di un autore cioè Inio Sano ho recuperato molte delle sue opere che vi faccio vedere Il Campo dell'Arcobaleno, La Fine del Mondo e Prima dell'Alba, La Città della Luce, Rei Raku che è l'ultima sua opera uscita What a Wonderful World e La Ragazza in Riva al Mare rimango con La Ragazza in Riva al Mare perché? perché diciamo che ha avuto alti e bassi con letture di Inio Sano alcune mi sono piaciute molto, altre probabilmente non le ho capite fino a fondo quindi diciamo che non mi hanno colpito più di tanto ad esempio Il Campo dell'Arcobaleno l'ho trovata una lettura un po' difficile come La Fine del Mondo e Prima dell'Alba invece per esempio La Città della Luce mi è piaciuta molto Rei Raku mi è piaciuta molto ci fa capire com'è il Giappone anche oggi insomma è un bello spaccato di vita del Giappone odierno mi è piaciuto tanto What a Wonderful World senza infami e senza lode perché comunque sono tutte diciamo pezzi di storie di pari protagonisti legati da un sottile filo conduttore quindi insomma diciamo che non è un'opera completa come ad esempio Il Campo dell'Arcobaleno però io mi premeva di parlare di La Ragazza in Riva al Mare che è un'opera molto controversa nel senso io prima di acquistarla ero molto titubante perché avevo visto qualche recensione o letto qualcosa su internet e quindi avevo paura che potessi non capirla che potesse non piacermi invece io dico la verità l'ho amata secondo me insieme a Solanin è l'opera più bella di Asano ripeto è un'opera molto controversa perché comunque a molti non piace perché? perché è un'opera molto intima nel senso che i protagonisti sono due ragazzi molto molto giovani che scoprono la loro intimità insomma i loro corpi e quindi ci sono delle scene molto molto esplicite delle scene molto crude di insomma atti che capisco che insomma che possono far storcere un po' il naso a chi non è abituato a chi non piace questo tipo di espressione diciamo io pur appunto non piacendomi perché non amo appunto le scene esplicite soprattutto nei manga devo dire che invece a me ha colpito tantissimo sono... ho capito diciamo sono riuscito ad entrare nelle menti dei protagonisti è una storia che secondo me appunto o si odia o si ama a me ripeto è piaciuta tanto vorrei rileggere quest'opera per entrare più a fondo nei particolari e poi se appunto il tempo me lo permette farci una recensione perché secondo me è un'opera che viene bistrattata però ripeto capisco che viene odiata e amata quindi io non do un giudizio appunto su chi la odia perché capisco che insomma può essere un'opera difficile da leggere però ripeto a me è piaciuta tantissimo la metto al pari appunto di Solanin come... quelle le letture che mi sono piaciute di più di Asano e ripeto se riuscirò a trovare il tempo vorrei portarvi una recensione per parlarvi di questo La ragazza arriva al mare bene direi che per letture manga è tutto vi ho fatto vedere bene o male tutto quello che ho letto insomma in questo periodo di quarantena e maggio ci sono altre opere che sto portando avanti però magari ve ne parlerò un po' più avanti anche nello Svuota Casella che ho recuperato alcuni fumetti appunto in fumetteria e in edicola e quindi penso che arriverà a breve anche uno Svuota Casella quindi direi che il video può finire qui fatemi sapere se vi piace appunto mettete un like scrivetemi nei commenti che serie state seguendo anche voi che serie mi consigliate se siete d'accordo con le mie valutazioni ad esempio su Asano su Soil su Erased insomma se vi sono piaciuti i fumetti che ho letto se li avete letti anche voi scrivetemi tutto nei commenti se non avete visto il video delle letture dei fumetti che ho fatto ve lo lascio nelle schede e vi lascio anche il link in descrizione quindi mi raccomando iscrivetevi al canale seguitemi alla pagina Instagram Nerd Attitude e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi